Il surrealismo è un movimento che pratica un'arte figurativa e non astratta. La sua figurazione non è ovviamente naturalistica, anche se ha con il naturalismo un dialogo serrato. Ciò per l'ovvio motivo che vuol trasfigurare la realtà, ma non negarla. Una contraddizione in merito al concetto di bellezza appare spesso evidente nei testi surrealisti. E' facile trovarvi ora un disprezzo nei confronti dell'arte della bellezza, ora un elogio e un'elevazione a valore supremo. E' necessario quindi mettere in luce quanto sia solo apparente questa impressione. La bellezza nel surrealismo è strettamente legata al concetto di meraviglioso, di stupefacente, di assurdo. La bellezza è qualcosa che ci colpisce e ci trasforma. Quello che il surrealismo condanna è la bellezza spettacolo, separata dalla vita. Ciò che l'arte surrealista si propone di fare è trasfigurare la realtà naturale, mostrare a chi si pone innanzi a un'opera surrealista, non solo pittorica, una realtà che va oltre a quella della quotidianità, figurando anche quei luoghi che la mente aveva sempre celato. Trovare quindi quella pittura che fosse, come voleva Breton nel suo manifesto, una pittura che fosse automatismo puro. Max Ternest, nel 1926, ricercando questo concetto di automatismo puro nella tecnica pittorica, riscoprì la tecnica del frottage. Per realizzare questa tecnica era necessario sovrapporre un foglio di carta o una tela o qualsiasi altro supporto sul quale disegnare a dei materiali che avessero dei rilievi più o meno marcati. Utilizzando poi una matita, un gessetto, un carboncino per sfregare sul supporto da disegno, riaffiorivano i rilievi e le incisioni delle superfici sottostanti. Il risultato di tale processo consentiva di ottenere chiaroscuri e sfumature particolari ed assolutamente imprevedibili. L'artista poi, visionando quanto era emerso da questa tecnica, lo riconduceva, tramite alcuni ritocchi, alle proprie immagini mentali. Tuttavia, non essendo il suo realismo un movimento sistematico che limitasse l'artista con un insieme di regole ferre da rispettare, nemmeno nel campo della pittura, ogni pittore aveva una sua concezione e un suo approccio. essendo un'arte molto personale, un'espressione del proprio inconscio liberato dalla camicia di forza imposta e gli dà la ragione, ogni artista è surrealista a modo suo. Volendo suddividere il caotico campo della pittura surrealista, possiamo trovarvi due categorie di tecniche, quella degli accostamenti di oggetti inconsueti e quella delle deformazioni irreali. Nella prima categoria artistica è possibile annoverare, tra gli altri, il già citato Max Ernst, che avviò la propria tecnica surrealista illuminato dall'enunciato, divenuto poi celebre in campo surrealista, di Isidore Ducasse, conte di Latremont, bello come l'incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio. Questa tecnica consentirà di agire sull'identità degli oggetti rappresentati, trasmutandone la proprietà ontologica e la loro funzione nella quotidianità. Il principio già citato di oggetto surrealista trova qui il suo campo di azione. Sono infatti le convenzioni a dettarci cosa deve essere un oggetto e per cosa deve essere utilizzato. Liberandosi dalla tirannia e dalle costrizioni di tale convenzioni, è possibile, tramite associazione di idee, unire cose e spazi tra loro estranei, per ricavarne una sensazione di nuovo, inedito e meraviglioso, ed esprimere le nostre tendenze profonde, subordinando tutto al desiderio. L'altra categoria pittorica, quella delle deformazioni reali, riguarda la metamorfosi. In questa tecnica surrealista potremmo ammirare oggetti che fluendo sulla tela si trasformano in altri, come le donne che si trasformano in alberi in Delvaux o le foglie che prendono la forma di uccelli in Magritte. Il fine di queste differenti tecniche surrealiste è lo spostamento del senso, la trasformazione di immagini che siamo abituati a vedere secondo il nostro senso comune, ora vengono rappresentate in modo da trasmetterci un diverso ordine di realtà. L'erotico impregna molti quadri surrealisti, il culto della donna e dell'amore, come già citato in un video precedente, è un tema centrale nel pensiero surrealista, tanto da conferire quasi una sacralità ai soggetti femminili impressi sulle tele. Consapevole di non aver potuto affrontare completamente l'argomento della pittura surrealista, invito chi è interessato a leggere il manuale di André Breton, Il surrealismo e la pittura, in cui ci sono molte più spiegazioni riguardo a quello che era il concetto di pittura dei surrealisti, nonché una critica a tutto quello che era l'arte contemporanea.